Comigliano d'Arco 6 di ottobre del 2024, siamo qui in un quartiere popolare dove Marcello Polasurdo ha abitato fino alla fine e ha avuto qua i suoi rapporti sociali, culturali e anche gli stimi di mutua assistenza tra l'uno e i vicinati. Soprattutto qui a Comigliano d'Arco ha speso tanti decenni artistici e di amicizia strettissima con il gruppo penale di Zensi di Comigliano d'Arco che quest'anno ricordano il loro cinquantesimo anno di attività. Marcello Polasurdo ha un omaggio memoriale dello street artist Luciano Ranieri, 30 anni, papà di Rodinbe, il quale nella sua attività ha molta attenzione per le periferie, recupero dei luoghi perduti, luoghi degli ultimi, luoghi di chi non ha quella grande presenza culturale e di servizi attraverso l'arte per recuperare anche questi angoli un po' abbandonati delle periferie urbane della nostra vita del terzo millennio. Lui ormai ha accumulato già diversi anni di attività e rende degli omaggi ma nell'attività anche su commissioni per il pubblico e per il privato e poi così di sua spontanea volontà si rivolge per esempio a dimensioni che possono essere universalistiche come quelle di Madre Teresa di Calcutto, del nostro padre Pio di Petrocina, come pure l'omaggio sportivo alla nostra realtà a parte l'opera con il passato maradona e il presente di Conte per il mio contatto. Adesso ci vogliamo commemorare il nostro Marcello Polasurdo. Da dove nasce questa tua idea di volerci fissare quest'opera nel suo portiere pubblico e è crescita, è un figlio di questo popolo, di questa città e di questo portiere pubblico e di questo portiere pubblico. Io premetto che l'80 o 90% dei miei lavori sono su commissione, però tra tutti quelli che poi mi vengono proposti io scelgo quelli che secondo me a livello di società possa dare uno spunto alle persone della periferia dove vado, della periferia, delle zone solitamente un po' più degradate, io vado dove il lavoro più mi interessa e dove secondo me può dare una svolta al posto. In questo caso trovandoci in un quartiere popolare e avendo una persona di esempio come Marcello Polasurdo, ho scelto che secondo me era un ottimo modo per dare un esempio al popolo, un esempio positivo, un esempio di pace, un esempio oltre che della musica che purtroppo io non ho chissà quali competenze artistiche, soprattutto sulla da me, però ho studiato Marcello e ho capito che comunque lui dava un esempio positivo a tutti, era ad esempio non solo appunto nella musica ma anche nel tenere un posto in maniera un po' più civile, essere ad esempio in civilazione per molti ragazzi che magari loro hanno imparato attraverso Marcello non solo assolutamente la da me, ma anche tantissime altre cose positive. Quindi è un esempio, io vado per le persone che possono essere ad esempio per i giovani, e no che sono i classici giovani che magari si perdono facilmente questi posti, in strade un po' più colpose. Tu giustamente alla firma hai messo la citazione di Marcello, questa chiamata generale ed è per noi un ricordo ma anche un impegno attuale, visto quello che sta succedendo nel mondo di guerra, anche uccisione e distruzioni, noi condividiamo, l'abbiamo condivisa in passato ancora in più oggi nel nostro presente di guerra. E' più per il meglio nato a Morriata che da guerra. E' la sintesi di questo lavoro, infatti c'è stato con me stamattina all'inaugurazione un momento positivo, tutti insieme abbiamo festeggiato, alla pace, abbiamo festeggiato, in maniera del tutto ci siamo divertiti, questa è la cosa più importante. Inoltre, oltre a divertirci abbiamo lanciato un messaggio fortissimo che è quello di dire appunto è meglio nato a Morriata che da guerra, divertiamoci, suoniamo, perché si guerra non porta il mondo da nessuna parte, tu alla morte. Grazie Luciano, è bello, è buccato, è meglio nato a Morriata che da guerra.